Osiride è ben 200 volte più massiccio della Terra e si è avvicinato pericolosamente al suo Sole. Distante appena 4 milioni di miglia, circa 6,5 milioni di chilometri dalla superficie della stella, Osiride è un vero e proprio inferno. La temperatura media giornaliera è di più di 1000 gradi centigradi. Più che un riscaldamento globale, questa è una frittura globale. Che fa sì che Osiride perda 500.000 tonnellate d'aria ogni secondo. C'è una perdita, un flusso costante di idrogeno ed elio, che crea una grande nube intorno al pianeta. È una sorta di immensa emorragia. Gli scienziati ipotizzano la presenza di una colossale scia di gas che segue il pianeta per migliaia di chilometri. Osiride rappresenta un'opportunità senza precedenti per gli astronomi. Usando Hubble, analizzano la turbolenta atmosfera del pianeta. Per la prima volta possiamo conoscere la composizione dell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Sorprendentemente, Hubble rileva molti degli elementi chimici necessari alla vita. Sodio, carbonio, idrogeno e ossigeno. Ma Osiride è troppo caldo per la vita come la conosciamo noi. In realtà esistono organismi che vivono ad alte temperature. Ma i giovi caldi non hanno una superficie solida, quindi la vita si ridurrebbe a microbi galleggianti nell'atmosfera. Sulla Terra ne abbiamo vari esempi, che però si sono trasferiti nell'atmosfera in un secondo tempo. Il che esclude che Osiride possa ospitare la vita. Gli astronomi hanno individuato molti giovi caldi dopo la scoperta di Bellerofonte nel 95. Ma le condizioni di questi mondi rende impossibile lo sviluppo della vita. Tuttavia, uno di questi giganti gassosi propone una serie di enigmi evoluzionistici. Geoff Marcy ha scoperto l'incredibile comportamento di un pianeta orbitante intorno a una stella chiamata Cidici Signus B, a circa 70 anni luce da noi, nella costellazione del Cigno. Il pianeta assumeva un'orbita chiaramente allungata, che lo portava molto vicino e molto lontano dalla stella madre. Questo andava contro le nostre concezioni basate sul nostro sistema solare, dove tutti i pianeti girano intorno al Sole in orbite quasi circolari, come i solchi di un disco in vinile. Come un enorme yo-yo spaziale, il pianeta gigante uscilla avanti e indietro nel suo sistema solare. È come se la Terra si avvicinasse al Sole di 25 milioni di miglia, più di 40 milioni di chilometri, per poi essere catapultata oltre Marte e verso Giove ogni anno. E come tutti i giganti gassosi del nostro sistema solare, questo pianeta yo-yo possiede alcune lune. Mars ipotizza che una di queste lune possa essere simile alla Terra. È qui che la storia si fa interessante. Immaginate una luna rocciosa con laghi, oceani, forse anche corsi d'acqua in superficie. La luna orbita intorno al suo pianeta e insieme ad esso orbita intorno alla stella. A differenza della nostra luna, priva di atmosfera, questo sarebbe un mondo vivo e dalle stagioni estreme. Sulla Terra, le stagioni sono causate dalla sua inclinazione. Qui, sono causate dall'orbita allungata. Un pianeta con orbita così allungata non può non subire tremende variazioni stagionali nel corso dell'anno. Mentre si avvicinano al punto più prossimo alla stella, il pianeta e la luna vengono completamente bruciati. È l'inizio dell'estate. L'atmosfera sulla luna è spazzata da tempeste devastanti. I nostri uragani di categoria 5 sono sbuffi di vento in confronto ai mostruosi vortici che si formano qui. L'acqua superficiale evapora e forma una coltre di nubi. Le temperature crescono vertiginosamente. L'acqua e i gas si riscaldano. Interi oceani diventano vapore. Una sorta di gigantesca sauna. Al culmine dell'estate, la luna presenta temperature superiori ai 400 gradi centigradi. È il punto di maggior avvicinamento alla stella. L'anno dura 26 mesi, solo due dei quali occupati dall'estate. Ma che estate! Poi, il pianeta e la sua luna si allontanano dalla zona calda. Le temperature calano, fino a livelli che noi troveremmo confortevoli. Con l'arrivo dell'autunno, le piogge tornano a bagnare la superficie bruciata della luna. I bacini secchi degli oceani tornano a riempirsi. Il livello del mare cresce e ridisegna le coste. Le condizioni tornano tranquille, mentre il pianeta e la luna scendono nel gelo profondo dell'inverno. Ora, a più di 200 milioni di miglia, o 320 milioni di chilometri dalla stella, il cielo è buio anche di giorno. Le temperature crollano fino a meno 160 gradi centigradi. Gli oceani ghiacciano e le calotte polari si espandono, chiudendo la superficie della luna in uno strato di ghiaccio spesso diversi chilometri. L'inverno è lungo, ben 17 mesi. Ma con l'arrivo della primavera, la stella torna a splendere nel cielo, spezzando e sciogliendo violentamente la coltre di ghiaccio. Grandi iceberg crollano in un oceano tempestoso e in rapida crescita. Per due brevi e preziosi periodi, il disgelo primaverile e le piogge autunnali, il clima della luna diventa vivibile e confortevole. A circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri dalla stella, una distanza simile a quella tra noi e il Sole, l'orbita ellittica del pianeta e della sua luna attraversa un'area che gli scienziati chiamano zona abitabile. Le condizioni qui sono perfette per la vita. La vita ha bisogno di condizioni particolarmente equilibrate. Il pianeta non deve essere né troppo vicino, né troppo lontano dalla stella. Ogni stella ha una zona abitabile, la cui posizione e ampiezza dipende dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. Nel nostro sistema solare, Venere segnala il limite interno e Marte quello esterno. La Terra e tutte le sue forme di vita si trovano esattamente nel mezzo. Osiride passa nella zona abitabile due volte all'anno. Per tre mesi e mezzo durante la primavera, mentre si avvicina alla stella, e per altri tre mesi e mezzo in autunno, quando invece viene proiettato nel buio dello spazio.